Dianne Mello si è raccontata, in una recente intervista, parlando del rapporto con Mario Balotelli. La verità sul ritorno di fiamma. Sin dai primi mesi della sua permanenza dentro la casa del GF VIP, Dianne Mello ha sempre mostrato un interesse nei confronti dell'ex fidanzato Mario. Tra gag insieme ad Enoch in cui la donna voleva sfruttare il fratello di Mario per riavvicinarsi e confessioni che lasciavano poco all'immaginazione. La modella brasiliana, una volta uscita dalla casa di Cinecittà, ha colto l'occasione per un chiarimento, che è poi diventato un riavvicinamento. Nelle ultime settimane infatti sono state molto insistenti le voci che hanno dato un ritorno di fiamma tra i due ex fidanzati, che non sono però al momento ancora usciti allo scoperto ufficialmente. Dalle parole dell'ex GFina al settimanale Chi inoltre, i due non sembrerebbero al momento in vena di nessuna uscita ufficiale, ufficiosa e amorosa, ma si stanno godendo il momento. Non sappiamo cosa vogliamo dalla vita. Non avrebbe senso urlare al mondo cose che non sappiamo. Sin dai primi mesi della sua permanenza dentro la casa del GF VIP, Dianne Mello ha sempre mostrato un interesse nei confronti dell'ex fidanzato Mario. Tra gag insieme ad Enoch in cui la donna voleva sfruttare il fratello di Mario per riavvicinarsi e confessioni che lasciavano poco all'immaginazione. La modella brasiliana, una volta uscita dalla casa di Cinecittà, ha colto l'occasione per un chiarimento, che è poi diventato un riavvicinamento. Nelle ultime settimane infatti sono state molto insistenti le voci che hanno dato un ritorno di fiamma tra i due ex fidanzati, che non sono però al momento ancora usciti allo scoperto ufficialmente. Dalle parole dell'ex GFINA al settimanale Chi inoltre, i due non sembrerebbero al momento in vena di nessuna uscita ufficiale, ufficiosa e amorosa, ma si stanno godendo il momento. Non sappiamo cosa vogliamo dalla vita, non avrebbe senso urlare al mondo cose che non sappiamo.